Grazie 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 Bicegliese Antonio Caggianelli, 33 anni, impegnato in una tournée nella penisola arabica. Due auto sono finite in una scarpata. Nell'incidente stradale perdono la vita altre quattro persone, tre italiani e una del posto. È accaduto a rientro da una gita sulle montagne del deserto. I dettagli. E Antonio Caggianelli, uno dei tre ballerini italiani, deceduti in un incidente stradale in Arabia Saudita. 33 anni, Bicegliese di nascita. L'artista è morto durante un'escursione nel deserto di Riyadh. Riyadh, capitale dello Stato del Medio Oriente. Con lui a bordo dei mezzi anche il romano Giampiero Giari e il siciliano Nicolas Esposto. Le due auto su cui viaggiavano i tre ballerini sono precipitate in una scarpata. E nell'incidente è morta anche una quarta persona che faceva parte dell'escursione. Coinvolti nell'impatto anche altri tre italiani, uno con lesioni gravi e due rimasti lesi. Caggianelli era in Arabia Saudita con la sua compagna di ballo, che avrebbe dovuto esibirsi durante l'inaugurazione di un nuovo teatro a Riyadh. Ballerino di spicco nell'ultima notte della Taranta viene ricordato sui social come il protagonista assoluto del concerto nel 2021. Cordoglio, anche da parte del sindaco di Biceglia, Angelo Antonio Angarano, che esprime il suo dolore per la scomparsa di Caggianelli e annuncia il massimo impegno delle istituzioni per il rientro immediato della Salma, già raggiunta in queste ore dai familiari in Arabia Saudita. Da accertare nelle prossime ore la dinamica dell'incidente che ha causato la morte dei tre ballerini con le autorità italiane che hanno già avviato i contatti con gli organi competenti dell'Arabia Saudita, rimane il grande dolore che ha colpito la comunità bicegliese che nei prossimi giorni, dopo il rientro del corpo in Italia, potrà salutare per l'ultima volta Antonio Caggianelli. I carabinieri sequestrano oltre un milione di euro. La somma era stata trovata lo scorso 24 aprile durante una serie di perquisizioni nell'ambito dell'inchiesta che ha coinvolto il GIP di Bari, De Benedictis. Sottoposti a sequestro dai carabinieri di Bari, oltre un milione e 115 mila euro trovati in possesso dell'Avvocato Chiariello. Tutto ebbe inizio il 24 aprile scorso, quando i militari, nell'eseguire le ordinanze restrittive a carico dell'Avvocato Chiariello e dell'oramai ex giudice Giuseppe De Benedictis, trovarono un vero e proprio tesoro celato all'interno di tre comunissimi zaini custoditi presso l'abitazione di Alberto Chiariello, figlio dell'Avvocato Giancarlo. La perquisizione fu eseguita nell'ambito dell'inchiesta della direzione distrettuale antimafia coordinata dalla Procura della Repubblica di Lecce, che avrebbe messo in luce un logevo e collodato accordo corruttivo tra l'ex magistrato del Tribunale di Bari e l'Avvocato Chiariello in cambio di cospicue somme di denaro. De Benedictis avrebbe favorito gli assistiti dell'Avvocato, per lo più affiliati a consorterie mafiose delle province di Bari, Foggia e Lecce. I carabinieri scoprirono in quell'occasione che nell'appartamento del figlio d'arte vi erano occultati oltre un milione e 115 mila euro, tutti in contanti e suddivisi in banconote di vario taglio. L'Avvocato Chiariello oggi ai domiciliari dichiarò che quel denaro rappresentava i risparmi di una vita da destinare ai figli, ma la giustificazione non è stata ritenuta credibile e così i carabinieri di Bari nelle scorse ore hanno posto un ulteriore vincolo a quella somma di denaro contante, ritenuta spropositata e ingiustificata alla luce degli ulteriori approfondimenti che hanno evidenziato una sproporzione tra i redditi dichiarati negli ultimi dieci anni dell'intero nucleo familiare del noto avvocato barese e le evidenze patrimoniali. Il GIP di Lecce ha ritenuto che tale sproposizione priva di giustificazioni sia attribuibile ai reati contestati a Chiariello ai danni dell'amministrazione della giustizia. Continuiamo su questo tema, si è aperto davanti ai giudici della Corte d'Appello di Lecce, Presidente Nicola Lariccia, il processo di secondo grado a carico degli ex PM di Trani, Antonio Savasta e Luigi Scimè condannati con rito abbreviato rispettivamente a dieci anni, il primo a quattro anni, il secondo. Savasta è ai domiciliari dal gennaio del 2019, presente in aula, così come Scimè che è libero ed è stato sospeso dal Consiglio Superiore della Magistratura. Nella sua requisitoria Giovanni Gagliotta ha chiesto la conferma delle condanne per tutti i cinque imputati, evidenziando la fondatezza rinveniente dalle indagini della Procura di Lecce nell'inchiesta sul sistema Trani, con sentenze e processi aggiustati in cambio di soldi e regali, svelato dall'imprenditore Flavio Dintrono. Sul banco degli imputati, insieme a Savasta e Scimè, ci sono anche l'immobiliarista Luigi D'Agostino e gli avvocati Giacomo Ragno e Ruggero Sfrecola. Nell'ambito della stessa inchiesta sono stati arrestati, lo ricordiamo, ai condannati con rito ordinario, anche l'ex GIP di Trani, Michele Nardi, e l'ispettore di Polizia Vincenzo dichiaro che il processo è stato aggiornato al prossimo 20 dicembre. Sabato mattina scorso i poliziotti della squadra volante della Questura di Bari, a seguito di una segnalazione, sono intervenuti in un'area rurale della zona industriale, dove hanno rinvenuto una piantagione di marijuana. Gli agenti delle volanti in zona, durante la bonifica di rito, hanno appurato la presenza di circa 50 piante e un piccolo impianto di irrigazione, che serviva indebitamente dell'acqua del vicino canile comunale. Le piante sono state estirpate e sottoposte a sequestro. Presso la sede della regione Puglia si è svolta una tavola rotonda sulle esperienze regionali e nazionali delle web radio come strumento di contrasto alla povertà educativa minorile. Scopriamo di cosa si tratta. Vade Mecum Web Radio Media Education è il contrasto alla povertà educativa e il titolo della tavola rotonda che si è svolta a Bari, nella sede della regione Puglia, nell'ambito del progetto orientamento consapevole e sistemico al tempo digitale. Ad aprire i lavori l'assessore regionale alla formazione Sebastiano Leo segue in dubbio il Vade Mecum per genitori di preadolescenti, nato dai podcast della web radio di progetto con tavola rotonda, partecipata da esperti e attori impegnati sul territorio a livello nazionale in azioni di contrasto alla povertà educativa in percorsi di web radio. I ragazzi di Radio Panetti dopo due anni di lockdown tornano finalmente ad incontrare la società, insomma quella società che rende più bello il loro posto nel mondo. E questo Vade Mecum davvero è degno di nota perché affronta tutta una serie di problemi molto vicini al mondo giovanile. Non dobbiamo assolutamente dare per scontato alla democrazia, alla nostra carta costituzionale e ai diritti di cui oggi possiamo godere grazie all'impegno dei nostri padri costituzionali, dei nostri nonni, dei nostri partigiani. E questo soprattutto per i ragazzi di questa generazione, ma anche della mia generazione che non hanno vissuto sulla loro pelle le guerre mondiali e la privazione del fascismo. Proprio per questo è importante con gli strumenti nuovi come quelli della web radio parlare di fascismo e di diritti e far sì che nuovi fascismi non si avvicinino alle nostre realtà. Oggi è un'occasione per presentare un Vade Mecum che abbiamo elaborato da parte del Consorzio Nuova insieme a Dorco, un Vade Mecum per tutti i genitori sul tema del contrasto al bullismo, su una serie di emozioni che in questo momento vivono il mondo adolescenziale. In particolar modo è un'occasione per sensibilizzare i genitori, per creare dei momenti di confronto anche nell'ambito di un programma più ampio di contrasto alle povertà educative. E nella BAT un congresso per parlare di ripartenza attraverso l'utilizzo dei piani strategici nazionali ed europei. Organizzato dal Gal Ponte Lama in qualità di capofila il congresso del forum leader che si è svolto a Biceglie, Molfette e Trani nei giorni scorsi rappresenta un'occasione di studio e confronto sui temi dello sviluppo locale nell'ottica di una ripartenza coerente ai piani strategici nazionali ed europei. Gruppi di azione locale provenienti da tutta Italia, delle pubbliche amministrazioni e delle associazioni di categoria si sono confrontati su temi specifici partendo dallo status quo per riprogrammare le attività del Gal adattandole alle nuove esigenze anche alla luce della crisi pandemica da Covid-19. La crisi genera anche un'occasione quindi l'occasione è questa di rilanciarsi con il piano di ripresa e resilienza un'occasione importantissima perché si tratta di risorse molto importanti in termini numerici anche in termini di qualità proprio sulla qualità deve essere incentrata alla progettualità i Gal giocano un ruolo importantissimo vogliono proporsi vogliono concorrere alle progettualità per il rilancio vogliono proporsi attraverso questo forum e attraverso il futuro a supporto dei privati e soprattutto delle pubbliche amministrazioni perché si va davanti per una strategia ed una vision pluriennale. L'idea di avere dei gruppi di azione locale con una programmazione dal basso è una idea che viene rafforzata nella prossima programmazione almeno il 5% delle risorse totali dei prossimi programmi di sviluppo rurale sarà dedicato a questa iniziativa e oltre alla programmazione ha un altro effetto molto benefico sul territorio perché crea classe dirigente nel senso che crea i funzionari che devono agire da organismi intermedi e agevolare la regione Puglia e la pubblica amministrazione nell'applicazione delle pratiche quindi crea anche conoscenza sapere, competenza che possono essere molto utili al territorio. È stato un bambino di 4 anni in cura nell'unità operativa di nefrologia e dialisi pediatrica dell'ospedale Giovanni XXIII il paziente più piccolo a essere sottoposto a un trattamento particolare con nuovi macchinari acquistati dal Policlinico di Bari grazie all'avanzata strumentazione è un macchinario automatizzato che garantisce una maggiore sicurezza e un'applicazione del trattamento ai bambini molto piccoli è stato possibile avviare sul giovanissimo una terapia che viene seguita solo in altri due centri in Italia che potrebbe evitare al paziente la dialisi. Con l'avvio di questa terapia e questo piccolo bimbo e questa bellissima vicenda conferma che grazie a un team medico, tecnico, infermieristico competente e specializzato si può essere centro di eccellenza per le procedure di depurazione extracorporea anche in bambini molto piccoli come è il caso appunto dell'ospedaletto di Bari. Andiamo a Foggia per un aggiornamento sulla vicenda tangenti nel comune nel corso dell'ultima fase dell'incidente probatorio la difesa ha sostenuto l'inattendibilità di Leonardo Iaccarino ex presidente del Consiglio Comunale di Foggia arrestato lo scorso 30 aprile con le accuse di corruzione tentata induzione in debita e peculato nell'ambito di una inchiesta su presunte tangenti a Palazzo di Città. Nell'inchiesta lo ricordiamo ci sono 14 indagati tra amministratori pubblici politici dipendenti comunali e imprenditori i principali indagati sono lo stesso Iaccarino e l'ex sindaco Franco Landella anche lui arrestato il 21 maggio per corruzione e tentata concussione e poi tornato in libertà Iaccarino è uno dei principali accusatori dell'ex sindaco l'incidente probatorio durato tre ore è stato chiesto dalla procura di Foggia per ascoltare Iaccarino che compariva sia come indagato sia come testimone di accusa nel pomeriggio l'ex presidente del Consiglio Comunale ha risposto alle domande di 8 dei 14 difensori e la difesa ha rimarcato che la convenzione che avrebbe favorito l'imprenditore Tonti non è stata firmata contrariamente a quanto affermato da Iaccarino nell'arco dei due mandati Landella ma nel 2012 ovvero due anni prima dell'insediamento dell'ex sindaco Tonti secondo l'accusa avrebbe versato una tangente da 32 mila euro intascata da Landella che poi l'avrebbe divisa con alcuni consiglieri comunali di maggioranza e adesso andiamo avanti parliamo della veleggiata che si è svolta a Bari nel circolo della vela organizzata dalla Comen adesso si pensa già alla prossima edizione che si terrà a maggio del prossimo anno 45 imbarcazioni con circa 200 partecipanti hanno preso parte alla veleggiata organizzata dal circolo della vela Bari a sostegno della Susan Comen che da anni si occupa di prevenzione del tumore al seno la partenza della veleggiata è avvenuta dal molo Sant'Antonio con un percorso costiero tra boe disposte lungo la costa sud del lungomare di Bari fino all'altezza di Torre Quetta per un totale di circa 8 miglia siamo molto soddisfatti della riuscita di questa veleggiata e della formula di collaborazione iniziata con Cus Bari e Circolo Nautico che ci ha consentito di raggiungere questi risultati ha detto il direttore nautico Gigi Bergamasco un ringraziamento speciale anche a tutti i nostri marinai istruttori e personale della casa che si sono dedicati con passione all'organizzazione di questo importante appuntamento per Titta De Tommasi presidente del CV Bari la collaborazione potrà continuare ancora a lungo nel segno della prevenzione e lotta a tumore al seno un riconoscimento da parte della Comen è stato consegnato al presidente del CV Bari da Linda Catucci presidente del Comitato Pugliese un grazie di cuore da parte nostra a tutti coloro che hanno contribuito a sostenere questa bellissima iniziativa di grande valore sociale e al Circolo della Varabari che oramai da anni è al nostro fianco con questa veleggiata di solidarietà siamo già lavorando per la prossima edizione che con grande probabilità si terrà a maggio Biceglie si illumina non con le solite luminarie ma con una struttura alta ben 16 metri e dal design innovativo guardate una grande esposizione di luminarie unica nel suo genere alta ben 16 metri dal design innovativo ma con la forte anima tradizionale ispirata alla funzione delle agorane le antiche città stato greche come luogo di incontro dialogo vita della comunità con un riferimento al sospiro il dolce tipico di Biceglie la cittadina della Bat si accende con l'installazione luminosa che colorerà piazza Vittorio Emanuele II lato palazzuolo nel segno della tradizione e delle caratteristiche luminarie ormai un tratto distintivo della Puglia nel mondo la realizzazione è curata dall'artista Daniele Cipriani e dalla sua fabbrica dei lumi che ha ottenuto un finanziamento regionale nell'ambito del progetto promozione integrata del territorio attraverso la valorizzazione dei tratti identitari e delle luminarie lo spettacolo inaugurale curato da Murgia festival d'arte della coreografa e direttrice artistica Giada Colacicco ha coinvolto percussionisti danzatori aerei giocolieri mangiafuoco e altri artisti l'accensione inoltre è stata accompagnata dalle coreografie dei ragazzi ben 44 studenti del liceo coreutico da Vinci un'altra occasione per stare insieme per ritrovarci e soprattutto per valorizzare il nostro territorio e continuare con una particolare attenzione alla immagine della nostra città che speriamo piaccia sempre di più Nonna Rachele compie 100 anni festeggiamenti nella sua abitazione nel quartiere San Pasquale a Bari Quanti figli? Quattro Qual è il segreto per vivere fino a 100 anni? Fare del bene Fare del bene Sei contenta? Sì Festa nel rione San Pasquale di Bari per i 100 anni di Nonna Rachele anche il sindaco De Garo ha voluto festeggiare il secolo di vita facendogli pervenire una pergamena una vita trascorsa a crescere quattro figli e a gestire la salumeria di famiglia circondata dalle effetti più cari ha spento la candelina posizionata sulla torta accanto al numero 100 ed è stato proprio in quel momento che Nonna Rachele si è commossa e non ha trattenuto le lacrime di felicità Spegni la candelina Bravo Un applauso Un applauso Che c'è? Che pensieri c'hai? Sei contenta? Ce l'ho giunto Ha gestito insomma la salumeria fino a 70 anni 60 anni fa aveva 30 30 anni quindi era una ragazza spesso a volte non si poteva anche compagare quindi lei aveva questo credito faceva il quaderno era un ruolo sociale cioè oggi non potremmo mai andare nei grandi permercati chi non ce li ha non ce li ha invece il ruolo anche di il ruolo sociale che l'attività commerciale svolgeva e quindi questo quadernone dove lei segnava e poi le persone andavano a pagare a fine mese una stagione completamente dedicata al grande attore barese Gianni Colayemma quella del teatro Barium che ha riaperto i battenti dopo quasi due anni di stop e li riapre proprio nel segno del suo fondatore scomparso prematuramente non ci sono parole insomma le sue ultime sono state mi raccomando al teatro quindi questa è una piccola promessa una nostra sfida e ce la metteremo tutta non ha intenzione di venire meno alla promessa fatta a suo padre Gianmarco Colayemma figlio del noto Giovanni attore e regista scomparso prematuramente causa Covid ad aprile scorso noto al pubblico pugliese non che negli anni con il suo teatro Barium ha portato in scena il meglio dei caratteristi baresi e Gianmarco è pronto ad accettare la sfida con se stesso e così dopo un anno e mezzo di stop a causa della pandemia e con i teatri riaperti al 100% ha organizzato una stagione iniziata ad ottobre con la comicità tutta milanese di Ugo Conti e che finirà in primavera tra musica e commedie i nomi sono il top della comicità made in Bari sul palco del Barium nei prossimi mesi saliranno Nico Salatino e Renato Ciardo Tiziana Scaviarelli e Lucia Coppola ancora Piero De Lucia e Pinoccio Sinisi abbiamo pensato di coinvolgere quasi tutti della comicità barese rendendo il teatro Barium un contenitore culturale locale e non abbiamo artisti anche che verranno da Milano da Roma per far rivivere questo luogo che per papà è stata la sua casa abbiamo aggiunto tutti i venerdì musicali abbiamo fatto abbiamo cercato di creare dei weekend alternativi tipo spettacoli non ancora visti sul mercato comici nazionali insomma cerchiamo di renderlo vivo così si inizia con la vera comicità barese beh certo Nico è stato il primo che mi ha chiamato ha detto mi raccomando Gianmarco dobbiamo fare una serata dedicata a papà perché lui come ben sappiamo tutti era un caro amico uno dei pochi che lo conosce dagli anni 70 hanno fatto le prime torne a Roma insieme di aneddoti ce ne sono tanti quindi una serata un weekend con Nico dedicato a lui è un One Nico Show come l'ha chiamato dovevamo farlo per forza è stata dura ed è ancora dura ripartire la salita è veramente lunga sperando che la gente creda ancora nel teatro e che abbia voglia di andare a teatro ci fermiamo per qualche istante di pubblicità torniamo tra poco con la pagina sportiva restate con noi grazie a tutti